A, quando io dico A, questo gruppo con questo cambia così, questo gruppo con questo cambia così, ma se dico B, questo gruppo cambia con questo, e se dico C, questo gruppo cambia con questo, questo gruppo cambia con questo, e se dico C, questo gruppo cambia con questo, e questo con questo, o se dico A, lateral, B, frontal, C, diagonal, lo avete entenduto tutti? A, B e C, vale? Pronti? Preparati? Via, paletto, paletto, di cosa, di cosa, di cosa, di cosa, di cosa, fischio, 5 passi, A, 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 Dice, Dice, B, segui portando la distanza, centro faccio, T, A, A, Stop!